Sì, sto bene, non preoccuparti! Beh, non proprio! Che cosa sta succedendo? Jay, qui c'è scritto non toccare il ferro, altrimenti potrebbe avvenire una metallizzazione! Metallizzazione? Ehi! Mi fai solletico! No! No! Un altro giro? No! Wreck-It! Credo proprio di averne usato troppo! Che cosa? No! Niente affatto! No! Sei ancora tu, il vecchio Jay! Il solito gigante metallico di sempre!